Non sono la cartella, no! Adesso, guardi, ci voglio raccontare un episodio veramente molto grazioso. Eravamo io, il Checco e il Nando. Oggi con lei avrà freddo, eh no, però, eh sì. Boh, io domandò, d'orsarbole, se c'ho freddo. Eh, mi chiede se c'ho freddo lui. Devo fare i seguenti giri stamattina. Devo andare al ministero, va bene? Devo andare in prefettura. Ha capito? Devo andare in questura. In questura no. Devo andare all'American Express e devo prendere l'aereo il pomeriggio per Palmi Calabro. Ma non c'è l'aeroporto? Privato. Lui vuole sempre e continuamente volare. Ecco, qua ci sarebbero i soldi. No!